In sei punti la visione futura del sistema sanitario regionale al momento commissariato, visione contenuta in un ordine del giorno presentato da PD e la sinistra che il Consiglio Comunale di Campobasso ha votato a maggioranza, 22 favorevoli e 4 astenuti. La priorità è garantire i livelli essenziali di assistenza con prestazioni appropriate ed efficaci attraverso un'offerta sanitaria calibrata su dati epidemiologici e ancora la percentuale dei posti letto per acuti al comparto pubblico all'80% e un servizio che tenga conto di esigenze e peculiarità del territorio e caratterizzarsi per la valorizzazione della prevenzione della medicina di prossimità domiciliare distrettuale ripristinando e potenziando di contro il circuito di urgenze ed emergenze. Altro aspetto centrale riguarda le risposte tempestive alle patologie tempo dipendenti con un dipartimento di emergenza, urgenza e accettazione DEA di secondo livello al Cardarelli e con esso il reparto di neurochirurgia ma anche reparti non rientranti tra quelli tempo dipendenti come oncologia, malattie infettive, gastroenterologia con relativi posti letto. Il Cardarelli si legge nel documento potrà vedere finalmente l'apertura della Stroke Unit dedicata alla cura dell'ictus. Infine più investimenti, più risorse umane e maggiore qualità delle prestazioni per ridurre la percentuale di mobilità passiva e assorbire anche nel pubblico la mobilità attiva e ancora la riduzione delle liste di attesa e l'eliminazione della possibilità di acquistare prestazioni extra budget dal privato fino a quando non si torni ad una sanità pubblica forte ed attrattiva. Insomma sembra più il libro dei sogni che è un obiettivo raggiungibile ma sognare non costa nulla e la provvidenza non ha limiti. Questa la posizione della politica più cauti tecnici. Per il nuovo POS serve condivisione. Serafico il commissario Angelo Giustini mentre per il direttore generale facente funzioni Antonio Lucchetti la sanità molisana vive un momento di fortissima transizione in quanto l'attuale programma operativo fa riferimento a quello del 2015-2018 non in linea con le esigenze di carattere assistenziale ed economico. Il vertice aziendale ha comunque rimarcato il lavoro fatto in questi anni con investimenti in attrezzature specialistiche anche se ha evidenziato la carenza di medici specialisti. Il Molise, la sua chiosa, merita una sanità moderna. Probabilmente negli anni passati si è pensato più al campanilismo che a fare una sanità regionale efficiente. Grazie a tutti.